Allora, al netto di qualche problemino tecnico proviamo ad iniziare. Allora, oggi volevo raccontarvi il lato pratico, operativo, relativo ai web service di cui abbiamo parlato per qualche settimana, quindi cominciare effettivamente a imparare a usarli. Divideremo il lavoro in due fasi. In una prima fase di cui ci occupiamo in questa settimana parleremo del lato client, ossia come chiamare web service esistenti. Oggi vi racconto il metodo di lavoro e domani in laboratorio, cioè nelle ore che abbiamo etichettato come laboratorio, vi mettete all'opera. Allora, prima di tutto una breve presentazione di una libreria che si chiama Axis, che è uno dei tanti progetti della galassia dei progetti Apache, come anche Tomcat, che è dedicato proprio a semplificarci la vita quando dobbiamo lavorare con il web service, perlomeno nel mondo Java. Allora, ricordiamoci un attimo cosa vuol dire fare una chiamata web service. Vuol dire che io ho un metodo di business che sta su un'altra macchina, ho bisogno da una prima macchina di chiamare quel metodo passandoli dei parametri e ottenere dei risultati. Allora, tutto il meccanismo del web service di SOAP prevede che io, per fare la chiamata, devo innanzitutto preparare i parametri, che devo passare al metodo di business remoto. Poi incapsulare questi in un messaggio XML secondo il formato SOAP, che abbiamo già visto che è già abbastanza complicato di suo. Una volta che ho questo messaggio, devo, ovviamente anche il messaggio SOAP deve essere composto secondo la specifica del web server remoto che devo chiamare. E quindi dovrò come prima cosa leggere il file WSDL, cioè la descrizione del servizio remoto, per sapere come comporre questo file SOAP. Quindi leggo il WSDL, capisco come deve essere fatto il SOAP e lo compongo. Poi leggo ancora il WSDL e capisco qual è l'endpoint, il protocollo, il metodo di chiamata che quel web service remoto si aspetta. Quindi il client si deve adattare a ciò che il server ha dichiarato. E una volta che l'ho capito, posso finalmente mandare il messaggio all'endpoint. Una volta che il messaggio è mandato, rimango in attesa, noi siamo sempre in un modello RPC, quindi aspettiamo una risposta, in attesa che dal punto di vista remoto succeda qualcosa. Può anche succedere che non otteniamo risposta perché la cosa vada in timeout, perché ci siano errori di rete o altre cause. Ma se va bene, riceviamo un messaggio di risposta, che è di nuovo un XML codificato SOAP, che conterrà dentro o un'eccezione, un fault, oppure la risposta che ci aspettavamo. Allora questo file XML va aperto, decodificato, se tratta di un errore o un'eccezione questa deve essere gestita, altrimenti finalmente posso spacchettare e andare a prendere il dato che mi aspettavo, il numerino, il valore, la stringa, la data che mi serviva. Questo dal punto di vista del chiamante. Per chiamare un web service dobbiamo fare tutte queste cose, che è abbastanza lungo e complesso. Lato server invece, cioè chi vuole offrire un web service, quindi ha già un metodo di business fatto, deve poterlo offrire affinché altri lo possano chiamare. Allora innanzitutto deve decidere quale formato vuole offrire, quale protocollo, quale codifica, quale endpoint, e scrivere tutte queste informazioni dentro un file WSDL. File WSDL che poi dovrà pubblicare, renderà pubblico noto a tutti. A quel punto una volta che è pubblicato, dall'oggi al domani o nei prossimi dieci anni, qualcuno potrà leggere quel WSDL e decidere di chiamare quel web service. Allora io che sono in web service, devo mettermi in ascolto da parte di richieste che arriveranno a non si sa bene quando. Quando arriveranno le richieste saranno sotto forma di un messaggio in arrivo, in entrata, sempre codificato in swap, cioè un messaggio che prima è stato preparato. Allora il server cosa fa? Riceve questa richiesta, fa il lavoro inverso del client, lo spacchetta e deve capire qual è il metodo chiamato, e quali sono i parametri da passare a questo metodo. Una volta che l'ho capito, chiamo finalmente il mio metodo di business, la mia classe Java che fa il lavoro. Questa classe farà il lavoro che deve fare, farà le query sul database, non sappiamo, e poi ritornerà un risultato. E questo risultato di nuovo dobbiamo impacchettarlo in swap e rispedirlo indietro. Eventualmente se nell'esecuzione della funzione di business ci fossero state delle anomalie, delle eccezioni, degli errori, anziché ritornare come messaggio il messaggio normale, ritorniamo un messaggio di tipo fault. Quindi noi abbiamo alla fine un punto che ci interessa davvero, invocare il metodo giusto per fare il lavoro che vogliamo. Tutto il resto è overhead, tutto il resto è lavoro aggiuntivo. E questo lavoro deve essere fatto bene in modo che, visto che il server e le client non si parlano, non si conoscono, se non per tramite del file WSDL, questo lavoro deve essere perfettamente sincronizzato rispetto alle informazioni che ci sono nel WSDL, che è il contratto di fatto di chiamata. dover maneggiare tutti questi file sia il WSDL che il SOP è abbastanza antipatico, per fortuna è stato antipatico a sufficienza a un gruppo di persone molto più grave di noi che hanno deciso di costruire una libreria per automatizzare tutto questo lavoro il più possibile. e questa libreria si chiama AXIS, con la X e non con la S come ho erroneamente scritto qua, AXIS, che cerca di semplificarci la vita il più possibile. Che come? Creando, mettendo a disposizione delle classi che fanno già una parte del lavoro, ma poi soprattutto creando direttamente nel mio progetto delle classi Java, quindi creando il codice, classi Java che fanno il lavoro che dovrei fare io, in buona parte. Ad esempio, se vogliamo chiamare un web service remoto, cioè il lavoro che faremo oggi, mi creano già una classe Java che ha un metodino che è uguale a quello del web service remoto. Come fa a crearla? Va a leggersi la libreria AXIS, si va a leggere il WSDL. Quindi questa libreria AXIS è in grado di leggere un WSDL di un web service qualsiasi e creare una classe locale che abbia gli stessi metodi, la stessa interfaccia del web service remoto. E dietro questi metodi, ovviamente, che girano nel mio sito, non c'è implementazione. L'implementazione viene automaticamente tradotta in una chiamata al web service remoto. Quindi, grazie ad AXIS, io do da bere il WSDL appunto, alla libreria AXIS, e questa mi genera una classe in cui io chiamo normalmente un metodo. Non mi accorgo della complessità. Tutto il lavoro di impacchettare, spacchettare, in XML, in SOAP, eccetera, viene fatto in modo trasparente, invisibile a me. E la stessa cosa succede quando voglio creare un web service e renderlo disponibile ad altri. In questo caso ci sono due modalità di lavoro che la libreria AXIS chiama top down e bottom up. Quella che useremo noi che è la più semplice è quella bottom up. Io bottom up significa dalla classe al web service. O meglio, dalla classe al WSDL. Allora, in quella bottom up noi daremo alla libreria AXIS una classe dicendo guarda che questa classe Java qui, in realtà l'interfaccia relativa a questa classe Java qui, la voglio far diventare un web service. E la libreria Java mi genererà sia il WSDL che descrive i metodi di quella classe lì, io l'ho scritta in Java, e lui genera il WSDL che la descrive, sia il servlet, diciamo tutti gli mapping che servono per far sì che quella classe possa essere in ascolto di chiamate remote. quindi questa classe venga richiamata da una chiamata SOP. L'altra modalità è che quella top down noi non la praticheremo molto perché si parte dal WSDL, quindi io creo il WSDL di un web service come lo voglio o magari copiando uno che esiste e voglio implementarlo. Allora, partendo dal WSDL vi mi crea gli scheletri delle classi di cui poi dovrò scrivere l'implementazione. noi non faremo questa parte top down perché ci richiederebbe di scrivere a mano il WSDL. Noi ci troviamo un pochino meglio a scrivere qualche interfaccia Java e poi generare il WSDL che non scrivere il WSDL per farsi generare le classi Java. Quindi è un metodo un pochino più pratico. Quindi questo è ciò che fa la libreria Axis che poi funziona così. Lato client lato server questa è la figura relativa al lato client qui a sinistra questa fettina che c'è client application è il codice nostro che ha bisogno di chiamare un web service che sta da un'altra parte del mondo infatti questa nuvoletta qui in mezzo c'è internet c'è la rete ok? Quindi questo codice applicativo ha bisogno di chiamare questo servizio. Di mezzo ci sono tutta una serie di livelli di traduzione tra cui se non altro gestire i pacchetti di richiesta e i pacchetti di risposta incapsulati secondo un certo meccanismo di trasporto e comporre questi pacchetti spacchettarli eccetera tutto questo come vedete è nascosto dentro una scatola che si chiama il motore Axis quindi io non mi preoccupo io applicazione client il mio codice che scriverò non mi preoccupo di comporre o di vedere neppure il messaggio che verrà mandato al servizio remoto ma io parlo con Axis e gli passo un po' di informazioni e lui fa il resto e un po' di informazioni si riduce a 5 righe o 3 dipende se contate o no i 3 catch che qui non ho messo poi lo vediamo qui nel dettaglio ma l'idea è che la chiamata a un web service è una chiamata a un metodo questo mybing era un nome monomotopeico di un servizio è un metodo fai qualcosa io qui sto chiamando un metodo su una classe questa classe in realtà è un servizio e quindi mi viene restituito questo locator e il service lo vediamo più avanti nel dettaglio per dire queste due istruzioni sono per ottenere un riferimento alla classe che localmente nella mia applicazione mi rappresenta il web service remoto una volta che ho questa classe quindi devo andare a trovarla e farmela restituire posso chiamare i metodi su questa classe ogni chiamata a metodo su questa classe corrisponde a un'invocazione remota di web service scritto così poi non funziona perché ogni chiamata remota può sempre generare delle eccezioni quindi ci vogliono poi tra i catch per andare a gestire le eccezioni che ci possono essere sempre dal semplice fatto che magari la rete non c'è non è disponibile o va in time out o altro ma il cuore è quello mi faccio dare un oggetto locale che rappresenta un web server remoto nel linguaggio dei pattern questo si chiama proxy un proxy nel linguaggio comune significa un sostituto un ambasciatore qualcuno che si mette al posto di qualcun altro ne fa le veci temporaneamente di facciata solamente perché poi il proxy non fa il lavoro ma riferisce a chi di dovere allora diremo che questa classe mybing in questo esempio non è altro che il proxy locale del web service remoto quando chiede qualcosa al proxy lui fa finta di essere lui a farlo ma in realtà sotto banco chiede a quello remoto ma tutta questa complessità in cui il proxy passa la chiamata al web service vero e proprio io non la vedo più non la vedo più e questa classe proxy più tutte le altre classi che qui sto usando sono state generate automaticamente quindi l'unico codice che io scrivo davvero è questo tre righe adesso poi le vediamo su un esempio pratico questo è solo una un'idea che ci fa capire la complessità che di fatto è stata completamente mangiata e nascosta grazie ad Axis ecco poi una volta che io ho fatto questa chiamata qualcuno deve gestirla e quindi qui mi metto sul server sul server c'è un meccanismo inverso reciproco di quello che c'è sul client che riceve i messaggi dal client dal codice client che li ha chiamati li ha fatti generare attraverso internet e dopodiché questi li analizza li spacchetta fino a quando non arriva alla classe vera e propria di nuovo tutto questo lavoro di spacchettamento fino ad arrivare alla chiamata del metodo remoto che deve fare il lavoro di nuovo viene gestita totalmente da Axis in tutta questa parte è fatta per noi non è fatta automaticamente per noi ciò che devo fare io come sviluppatore del servizio è come minimo definire una classe che implementi il servizio qui l'ho chiamata Bing Service Implementation che ha dei metodi che fanno qualcosa qui aperta graffa puntini puntini faranno del lavoro poi in realtà ad Axis non interessa neppure quale sia questa classe interessa quali sono i metodi per poter generare il WSDL quindi in realtà di questa classe è molto più importante l'interfaccia che viene implementata anche perché poi magari la classe ha anche altri metodi che non vogliamo esporre come web service metodi magari interni di lavoro quindi chiaremo un'interfaccia che contiene esattamente i metodi che vogliamo esporre all'esterno e poi creiamo una classe che implementi questa interfaccia passando ad Axis l'interfaccia lui genererà lui lei la libreria genererà il WSDL che descrive quell'interfaccia lì e ne descrive tutti i metodi di chiamata e genererà le classi server che ricevono questi messaggi soft e in fin dei conti in ultima analisi chiamano questi metodi di questa classe concreta e questo è il lavoro invece che affronteremo la prossima settimana allora partiamo dai client e partiamo da un esempio semplice per oggi separato rispetto all'energy community domani invece faremo un altro esercizio in cui andremo integrare queste cose all'interno di energy community quindi andiamo per gradi come sempre allora un servizio molto semplice noi troviamo un web service dall'altra parte del mondo che vogliamo chiamare perché ci serve nella nostra applicazione allora il servizio che usiamo oggi come esempio è un servizio di conversione di tassi di valuta ma più che di conversione di tassi di valuta è di interrogazione di qual è il tasso di cambio data una coppia di valute non chiedetemi quanto sia aggiornato questo servizio qui ce ne sono molti molti sono a pagamento di queste informazioni c'è un sito che è webservicex.net che raccoglie un po' di web service gratuiti senza grosse garanzie però va bene per sviluppo allora andiamo un po' a vedere direttamente sul sito di che cosa ci parla allora questo link ci sono in questo appunto webservicex.net ci sono molti molti parecchi web service possibili divisi in categorie purtroppo per noi molti di questi ragionano solamente in termini statunitensi quindi ti danno informazioni solamente relative agli Stati Uniti e quindi non ci servono un granché tra questi uno dei più semplici è questo il convertitore di valuta cos'è il convertitore di valuta? è un webservice allora questa è una pagina ma qui stiamo facendo coloro che vogliono chiamare questo webservice come prima cosa devo riuscire a capire che cosa fa allora qui c'è il WSDL in questa finestrella qua che ci potrebbe leggere potremmo andare a studiare cercheremo anche di vedere come è strutturato c'è una URL che è questa che ci indica dove si può scaricare il WSDL quindi io posso fare copia in colla di questo ma in realtà questo è l'indirizzo in cui si trova il WSDL e soprattutto qui c'è una descrizione del servizio che dice guarda che questo currency converter ha un metodo un metodo che si chiama conversion rate e poi non ha altri metodi qui c'è solamente per nostra comodità un elenco delle sigle delle varie valute del mondo non sono forse tutte ma quelle supportate da questo servizio in questo caso quindi è un servizio che è un metodo solo se voglio vedere il dettaglio di questo metodo clicco qua e lui mi fa vedere guarda che questo conversion rate cosa fa? mi restituisce il tasso di conversione da una valuta ad un'altra valuta e vabbè fin lì c'eravamo arrivati ma poi la parte interessante è quella che viene sotto che ci fa vedere degli esempi di come il metodo viene viene chiamato adesso io le ho messe un pochino in bella sulle slide così sono forse più leggibili queste stesse informazioni allora ciò che leggiamo da questa documentazione è che c'è un metodo quindi il web service offre un'operazione sola cioè si chiama conversion rate tasso di conversione e questa operazione richiede due parametri che si chiama from currency e to currency che sono codificate o in qualche modo legate a stringhe di tre lettere che sono queste indicate qua e danno un parametro di uscita che è il tasso di conversione ecco i dettagli di questa informazione da dove li pesco e li pesco dal WSDL no? i dettagli di quali sono i tipi di dati eccetera li dovrei pescare dal WSDL che è tutto questo adesso leggere direttamente il WSDL lo potremmo fare ma una cosa un tantino più comoda è quella di importarcelo e scaricarcelo e importarcelo in Eclipse perché Eclipse ha un suo editor di WSDL che ci permette di navigarlo in modo più semplice sarebbe l'editor che useremmo se dovessimo costruirci un WSDL da zero ma poi possiamo usarlo anche per aiutarci a leggere i WSDL esistenti allora ci dà una visione grafica di questo genere ma noi la vediamo dal vero allora io ciò che faccio è mi creo un nuovo progetto ne ho già uno ma di prova ma adesso riparto da zero e proviamo ad aprire in questo progetto questo WSDL e dopodiché proveremo a creare un client che richiami questo servizio di conversione passo la volta allora fatemi chiudere questo e creare un nuovo progetto nuovo progetto di tipo di tipo dynamic web project come al solito e lo chiamiamo esempio conversioni valuta l'ho aperto un progetto solamente per poterci mettere dentro un file ok e dentro questo file ci metto creo creo un nuovo file che chiamo come si chiama web service si chiama currencyconverter punto usdl e dentro questo file ci vado incollare il codice ad esempio qua prendo questo file poi vado a vedere il sorgente della pagina così non ho cose che non c'entrano copia e incolla e salvo quindi l'operazione che ho fatto è semplicemente di andarmi a scaricare dal sito il vsdl del web service e me lo sono importato in eclipse eclips ha un editor di vsdl che ci permette genera automaticamente una rappresentazione grafica del contenuto del vsdl quindi un pochino più facile da digerire che non le 300 linee di codice quindi è lo stesso qui avete i due livelli source che è sorgente xml e design che è la versione grafica allora questo cosa ci dice ci dice che abbiamo un servizio che è il currency converter e questo servizio è composto da quattro porte quattro porte che si chiamano currency converter http get currency converter http post currency converter sop e currency converter sop 1-2 queste quattro porte sono relative a 4 1-2 anzi a 3 scusa sono relative a 3 servizi distinti in realtà le ultime due porte come vediamo da questi percorsi da queste frecce sono relative entrambe allo stesso servizio sop questo ci sta dicendo il WSDL ci sta dicendo guarda che questo web service tu lo puoi chiamare in tre modi diversi con una richiesta get e allora usi la prima porta con una richiesta post e allora usi la seconda porta oppure con una richiesta sop che è quella completa la più complessa e usi la terza porta che è quella che useremo noi quindi le prime due non le guardiamo queste iconcine nel mezzo stanno ad indicare i bindings il binding ricordiamo nel WSDL è il legame che c'è tra una porta dichiarata nella dichiarazione del servizio e un servizio specifico quindi è quello che lega il carousi converter al converter e così via quindi in questo caso ci sono due binding diversi che mappano entrambi sullo stesso servizio allora questo servizio che cosa ha? un metodo che lui chiama operation le icone hanno questo significato non so come chiamarlo questa specie di freccia rappresenta la porta l'ingranaggio rappresenta l'operazione nel linguaggio dei web service e queste frecce rappresentano i messaggi di input e di output allora noi guardiamo la parte SOP la parte SOP dice che il servizio offre una operazione conversion rate se offrisse più metodi ce ne sarebbero più blocchetti qua sotto e questa operazione è composta da due messaggi uno di input e uno di output il messaggio di input contiene dei parametri che sono dichiarati definiti dal tipo di dato conversion rate il messaggio di output invece contiene dei parametri di ritorno che sono dichiarati nel tipo di dato conversion rate response noi sappiamo già che questi sono nomi di messaggi il nome di un messaggio che coincide col nome dell'operazione è il messaggio di andata e il nome del messaggio che coincide col nome dell'operazione a cui ho concatenato la parolina response è il messaggio di risposta secondo una convenzione rpc e queste due frecce mi servono per vedere il dettaglio di come sono fatti questi due tipi di dati questi due messaggi quindi il messaggio di andata posso cliccare sulla freccia così arriva una pagina separata e posso ingrandirla con calma mi dice che currency converter .vsdl contiene il suo interno vi leggo quello che c'è scritto qua inline schema of currency converter lo schema è la parte di xml che dichiara i tipi di dati qui noi non abbiamo un xml schema separato per definire i messaggi ma una parte di questo schema è stato annegato dentro vsdl non abbiamo fatto noi vsdl l'abbiamo trovato fatto dentro questo vsdl era dichiarato che c'era un tipo conversion rate type quindi ricordiamoci cos'era conversion rate era il messaggio di richiesta il messaggio di richiesta contiene un payload un carico il carico è di tipo conventional rate type e sto tipo conventional rate type che cos'è? è semplicemente una sequenza questo puntino sta per indicare sequence nel linguaggio dell'xml schema una sequenza di due campi uno è un front currency di tipo currency uno 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 sta a indicare la cardinalità ce ne può essere da uno a uno cioè un campo obbligatorio univoco e un secondo campo è il two currency quindi il metodo di richiesta accetta due diciamolo con il linguaggio java due oggetti di tipo currency il primo si chiama from currency il secondo two currency cosa sono gli oggetti di tipo currency? currency aspetta cliccandoci sopra non basta dovevo andarmelo a cercare poi lo guardiamo il messaggio di risposta quindi il messaggio conversion rate response contiene contiene un oggetto xml di tipo conversion rate response type e questo è costituito da un solo elemento che si chiama conversion rate result e è un double che è il tasso di cambio sarà 1,4 quant'è il tasso di cambio euro dollaro oppure quello che sarà ok quindi io gli passo due oggetti currency che rappresentano le due valute e lui restituisce un oggetto double che contiene il tasso di cambio quindi questo è tutto ciò che c'è scritto nel vsdl a noi serve capirlo sì ci serve capirlo perché dobbiamo costruire un'applicazione e dobbiamo preparare i dati che ci interessano la cosa che non abbiamo ancora visto è che cos'è questo benedetto oggetto currency pensavo di arrivarci da qua ma non ci arrivo torniamo su eccola qua il tipo currency è una stringa in realtà dice qualcosa di più perché dovrebbe essere una stringa vincolata a essere uno dei valori validi no questo caso non me lo dice vado a vedere il sorgente ricordate che c'era una parte eccolo qua ingrandisco un attimo i font torrelle guardate così si riesce a vedere text font ok qui dichiara questo è il linguaggio XML schema che noi non abbiamo visto ma tanto per dargli un'occhiata mi dice che currency è un tipo semplice quindi un tipo scalare non un tipo strutturato non è un oggetto è specialmente un tipo che è costruito a partire da una stringa da una stringa normale applicando una restrizione di tipo enumeration quindi è un insieme vincolare e un enumeration una lista una enumerazione di valori possibili ciascuno dei quali è una stringa e come vedo qua sono tutte stringhe di tre caratteri quindi ho definito un tipo enumerato in XML schema dopodiché ad esempio ho definito già che ci siamo l'abbiamo aperto lo guardiamo il tipo conversion rate che ricordiamoci che è il tipo del messaggio di richiesta e lui mi dice che è un tipo complesso cioè complex non è che voglia dire complicato un tipo strutturato composto da una sequenza di due elementi ciascun elemento sono ad esempio from currency to currency che hanno una cardinalità esattamente pari a 1 e sono di tipo currency ossia del tipo base definito sotto qui c'è tutto un sistema di tipi in cui uno dichiara le strutture degli oggetti in XML e parte di questo per fortuna il Eclipse ce lo fa vedere quindi non ci fa vedere la restrizione a questi valori possibili questo ci è servito per capire di che cosa si tratta questo USDL noi l'abbiamo aperto solo per leggerlo o per analizzarlo non ci abbiamo ancora fatto nulla andiamo avanti allora noi vogliamo arrivare l'abbiamo visto questo disegno e questo abbiamo capito cosa vogliono dire allora sulla base di queste informazioni del USDL che abbiamo visto possiamo capire come dovranno essere fatti i messaggi SOAP che viaggiano avanti e indietro io qui ho preso questi messaggi direttamente dalla pagina web del sito dove li riporta come esempi li ho portati qua solo per renderli un pochino più leggibili e dice il messaggio di richiesta sarà ovviamente siamo in SOAP è un SOAP envelope è una busta SOAP che contiene un body il body contiene il messaggio conversion rate e questo messaggio conversion rate contiene due campi from currency to currency che sono stringhe e queste qui devono essere due di quelle stringhe del lungo elenco che abbiamo visto prima questo è il messaggio SOAP ma il WSDL ci dice di più ci dice anche quali sono i binding di questo messaggio e quindi ci dice anche a quale URL deve essere chiamato il web service a quale URL deve essere mandato in modalità HTTP post il messaggio SOAP che è di fatto un allegato del post e qual è l'host l'indirizzo il computer su cui mandare questa richiesta quindi tutto questo messaggio di richiesta è composto a partire dal WSDL dalle informazioni presenti nel WSDL sia il messaggio il SOAP sotto sia il binding ossia le informazioni su come inviare in HTTP e ci aspettiamo che questo web service ci mandi una risposta che è di questo tipo una risposta partiamo dall'alto il binding è sempre HTTP era un post e ci aspettiamo una risposta di tipo HTTP 200 ok ti do la risposta content type application SOAP XML e ti do un XML SOAP che contierrà la risposta e quindi adesso andiamo a vedere il SOAP apriamo la busta HTTP e ci troviamo una busta SOAP questa busta SOAP contiene apriamo questa busta contiene un messaggio un messaggio conversion rate response conversion rate response sappiamo che è un messaggio che contiene un dato solo che si chiama conversion rate result che in risposta il messaggio risalta il valore del parametro che è un double è un numero io ho messo i numeri a caso non so a che cosa corrisponda come tasso di cambio ok? quindi questi sono i messaggi che si devono scambiare tra client e server in conformità a quanto abbiamo visto nel VSDL li abbiamo messi qui come esempio questi messaggi perché noi non li vedremo mai per fortuna allora il nostro lavoro cosa facciamo? vogliamo provare a costruire un web service scusate un client che richiami questo web service quindi un'applicanza in Cina di esempio che vada a richiamare questo e ottenga qual è il tasso di cambio attuale ad esempio 3 euro e dollaro o uno qualsiasi degli altri allora torniamo su Eclipse chiudiamo questo VSDL perché in questo momento non ci serve e quello che possiamo fare è chiedere ad Axis che è già installato come parte di Tomcat quindi non dobbiamo fare nulla per installarlo in realtà ci sarebbero due versioni di Axis la versione 1 e la versione 2 la 2 sarebbe da installare a parte perché non è già preinstallata ma perché ciò che facciamo noi è più semplice da utilizzare la versione 1 quindi rimaniamo su quella allora sul progetto esempio di conversione valuta su questo progetto new quindi faccio un solito new per creare un nuovo file e tra le varie cose che posso creare vedete che c'è una voce web services e tra questi web services ci sono web service e web service client web service significa creare un servizio effettivo che gli altri possono chiamare lato server web service client significa chiamare le classi locali per poter chiamare un servizio remoto a noi serve questa oggi perché vogliamo chiamare il servizio di conversione valuta allora seleziono questa voce vado avanti e lui mi dice mi chiede essenzialmente la domanda principale è qual è il servizio che vuoi chiamare? Dostal vsdl perché dal vsdl lui fa tutto il resto ma deve averlo allora io posso dargli l'indirizzo del file locale ma posso anche dargli direttamente l'indirizzo ufficiale di questo vsdl quindi prendo questa url copia e lo incollo qui questo punto questa è la prima domanda la più importante le domande successive mi chiedono ma dove lo metto cioè con che tecnologia scusate lo realizzo questo client uno è in java come vuoi vederlo sotto che forma crearlo in questo caso c'è una forma sola che è quella di un proxy cioè una classe che fa le veci del web service e quindi è una scelta obbligata poi le tre domande sono quale server dentro quale server girerà l'applicazione e tomcat va bene qual è la versione di axis da usare se clicchiamo c'è l'axis axis 2 ma se proviamo a selezionare le altre ci dice che non sono installate quindi non lo tocchiamo e la terza domanda è in quale progetto eclipse vuoi mettere il risultato va bene vuoi mettere la classe generata e poi c'è questa ascensore questa levetta che mi chiede che cosa voglio generare voglio solamente sviluppare c'è un livello develop un livello assemble e un livello deploy poi ci sono livelli successivi che sono installa e testa dipende dal livello di fatto è un modo per chiederci quali classi vogliamo generare vogliamo che ci vengano generate più andiamo su più lui genererà classi aggiuntive che possono servire appunto installarlo nel caso del client l'installazione non fa nulla ma ad esempio il test genera delle classi di test che permettono di richiamarlo il livello che usiamo adesso è il deploy che dovrebbe essere sufficiente forse anche quello inferiore ma e che di fatto era già quello preimpostato quindi non ho fatto nulla quindi riassumendo l'unico dato vero che abbiamo fornito è l'indirizzo del WSDL dandogli indirizzo web oppure dandogli un file salvato in locale il resto non ho toccato nulla rispetto all'impostazione di base vado avanti lui mi dice dentro quale directory andare a creare le classi che è la directory src del nostro progetto ovviamente che è quella che contiene le classi volendo potrei cambiare il nome del package lui come nome di package nel quale va a generare le classi lo vedremo tra un secondo usa il nome della url del sito su cui gira il servizio se volessi cambiare il nome del package per ragioni mie lo posso fare ma di nuovo quindi di fatto riassumendo abbiamo dato il WSDL tutto il resto abbiamo confermato i dati allora lui ci pensa un attimino e ha fatto cosa ha fatto allora ha sicuramente aggiunto delle classi al mio progetto delle librerie al mio progetto questo è un progetto nuovo non c'era nulla normalmente dentro webinflib troveremo anzi dovremo mettere se andremo avanti con questo progetto la libreria di JDBC di MySQL se no è vuoto ma in realtà la creazione la prima volta che creo un client mi aggiunge le classi di axis essenzialmente da utilizzare quindi sono state aggiunte automaticamente e vabbè qui ha richiamato le librerie esistenti l'altra cosa invece importante dentro il source ha creato un package net.webservicex.www che è il nome del sito da cui stiamo prendendo in prestito il web service che contiene 1,2,3,4,5,6 classi o meglio 6 file java alcuni di questi sono classi altri sono interfacce quindi questo è il codice che lui ci ha generato a partire dal vsdl adesso andiamo a cercare di capire come ragiona che tipo di codice ha generato vediamo currency senza nulla è il nome dell'oggetto ricordate che c'era un tipo di dato currency che era il tipo di dato del parametro qui lui mi ha creato un oggetto java che rappresenta il tipo di dato del parametro quindi per chiamare il metodo dovrò passargli un oggetto di tipo currency passargli da chi? passarlo al servizio al proxy del servizio e questo è rappresentato da una classe che si chiama currency converter shop se torniamo al nostro disegnino currency converter shop era il nome del servizio che vogliamo richiamare currency converter shop qua sotto lui ha creato una classe che si chiama nello stesso modo del servizio questa classe per essere più precisi è un'interfaccia che si chiama currency converter shop contiene guarda caso un metodo che ha esattamente la stessa signature del WSDL un metodo che si chiama conversion rate prende come parametro un currency e un altro currency e si esituisce un double quindi c'è un mapping 1.1 currency converter shop è il nome del servizio contiene un metodo conversion rate che accetta due parametri e restituisce un double currency converter shop è un'interfaccia java che contiene un metodo conversion rate che accetta due parametri e restituisce un double la stessa cosa rimappato in java ciò che era descritto a livello di shop e l'oggetto currency me l'ha definito perché da qualche parte deve averlo e l'avrà definito l'oggetto currency con tutte e tante belle costanti che corrispondono alle varie valute ma poi vediamo come usare e poi ha costruito altre classi di servizio questa poi tra l'altro è solo un'interfaccia quindi non fa nessun lavoro non ho ancora aperto il codice stiamo solo cercando di orientarci in ciò che è stato generato allora per orientarci meglio io ho provato a riassumere le dichiarazioni principali delle classi che sono state generate allora a parte la classe currency ci sono 5 cose nel nostro progetto queste currency sono un oggetto normale che rappresenta quelle stringhe è un'enumerazione ci sono due interfacce currency converter SOP che è quella che abbiamo visto e un currency converter più generale il currency converter più generale è lo stesso nome ricordiamo che c'è una corrispondenza 1-1 con i nomi è il nome del web service in generale currency converter SOP è il nome di quella porta di quel servizio quindi currency converter rappresenta questa interfaccia rappresenta l'intero l'intero web service e avrà il riferimento ai vari servizi specifici come ad esempio currency converter SOP in questo caso ce n'è uno solo a riferimento ai servizi specifici che sono implementati currency converter è un'interfaccia e quindi non fa nulla e poi c'è una classe che si chiama currency converter locator che è la prima che dovremmo usare è una classe che come dice il nome locator è in grado di trovare il web service che si chiama currency converter o meglio è in grado di farci trovare i vari servizi implementati da quei web service detto ancora meglio non tanto di farci trovare i servizi ma di farci trovare le classi proxy che ci permetteranno di chiamarli currency converter locator implementa l'interfaccia currency converter l'interfaccia currency converter è banale perché se andiamo a prenderla ha solamente un metodo che si chiama get currency converter sop e finisce lì oppure c'è un get address che mi da se mi interessa sapere l'indirizzo web mi da l'indirizzo web del server ma se no il metodo è questo get currency converter sop se quel servizio quel web service contenesse più servizi diversi più servizi diversi avremmo più metodi get che mi danno i vari servizi locator è la classe che implementa questa interfaccia e quindi ha il metodo get currency converter sop e implementa una sottoclasse di service no questa è scritta in alto a destra col bordino di colore diverso tendente al rosso sono classi di axis non sono nel nostro progetto sono nelle librerie che abbiamo importato infatti vedete che è org.paci eccetera quindi di fatto rappresenta il servizio quello che dicevamo prima il servizio e non il web service non il web service specifico accidente sono ingarbugliato il filo ok dopo di che il metodo get currency converter sop mi restituisce il sop il proxy al sop restituisce un oggetto di tipo currency converter sop currency converter sop di nuovo è un'interfaccia che a parte un grosso commento lungo contiene un metodo solo conversion rate che riceve due parametri di tipo entrambi currency e currency in realtà get currency converter sop mi restituirà ovviamente non mi restituisce l'interfaccia mi restituirà un oggetto concreto che implementa quell'interfaccia e gli oggetti che implementano quell'interfaccia nella realtà ce ne sono due tra quelli che sono stati generati uno che si chiama currency converter sop proxy e l'altro che si chiama currency converter sop stub proxy e stub sono terminologia propria del pattern di progetto del proxy il proxy è quello che fornisce l'interfaccia i metodi da chiamare lo stub è quello che in realtà a sua volta riceve le richieste dal proxy e poi in realtà questo stub a sua volta le rispedisce su XML quindi lo stub è colui che veramente fa le chiamate il proxy è una classe più leggera che non fa altro che prendere che offrire i metodi come se fosse web service e passare il lavoro allo stub noi di tutto questo queste due classi non le vediamo direttamente in realtà il codice utente qui ho indicato che con le frecce parla col proxy in realtà la classe proxy non la creiamo mai noi direttamente ma ce la facciamo restituire dal currency converter dal locator quindi quando do il get currency converter sob mi ritorna un oggetto di tipo currency converter sob in particolare mi ritorna il proxy poi ci penserà il proxy a crearsi lo stub per poter fare la chiamata quindi è abbastanza soprattutto l'inizio è un po' ingarbugliato per orientarsi ma se noi guardiamo noi abbiamo solamente bisogno dal punto di vista dell'utente di prendersi un locator e chiedergli dammi il riferimento al servizio e questo mi darà una classe di tipo proxy su cui chiamerò i metodi effettivi quindi a livello di codice questo ragionamento si sintetizza con questa figura io ho indicato I e C quelle che sono interfacce e quelle che sono in realtà classi concrete e con questi rettangolini azzurri ho sottolineato le corrispondenze di nomi tra i nomi delle classi dei metodi e i nomi del WSDL insisto su questo perché domani dopo domani il prossimo mese quando dovete usare vorrete usare un web service diverso chiaramente i nomi cambiano ma il riferimento il tipo di concatenazione dei nomi rimane sempre lo stesso quindi impariamo a riconoscere da dove sono prese le varie parti da dove sono prese i vari pezzi quindi il mio codice sarà prima di tutto creo un locator mi prendo un oggetto di tipo locator me lo creo e su questo oggetto che di fatto mi rappresenta il servizio nel suo insieme mi faccio dare la porta che mi interessa quindi dal locator chiedo get e il nome della porta in questo caso il nome della porta si chiamava currency converter SOP era questo qui carcci converter SOP quindi mi darà un riferimento a questo di tipo carcci converter SOP in realtà noi sappiamo che mi dà la classe proxy ma non importa perché implementa questa interfaccia e quindi su questa classe proxy chiamo i metodi from c e to c devono essere oggetti di tipo currency quindi mi devo essere creati ovviamente ok allora dove lo metto questo codice immaginiamoci che la nostra applicazione web a un certo punto vuole accedere a questa informazione una chiamata web service concettualmente dal punto di vista dell'applicazione web non è molto diversa rispetto a una query sul database cioè a un certo punto io ho bisogno di un'informazione devo andare sul database per ottenerla ho bisogno di fare una modifica un aggiornamento un inserimento devo andare sul database per farlo ho bisogno di un'informazione devo andare su un web service per ottenerlo o devo andare su un web service per fare una modifica per inviare un ordine o qualcos'altro sono tutte operazioni in cui l'applicazione web ha bisogno di una risorsa esterna vuoi che sia il database vuoi che sia un web service per poter ottenere dei dati o compiere delle operazioni quindi riusiamo tranquillamente allegramente lo stesso pattern che avevamo usato poco tempo fa per accedere al database ossia mettiamo i metodi di accesso a un database scusate a un web service all'interno di un oggetto DAO di un data access object ricordiamoci che un DAO era un oggetto che conteneva tanti metodi corrispondenti alle varie chiamate e comunicava con il resto attraverso oggetti che avevamo chiamato transfer object oggetti che avevano solo dati nessun metodo abbiamo separato la logica di chiamata rispetto ai dati scambiati allora il tempo non ci permette di costruirlo insieme quindi vado a prendere una versione dell'esercizio che avevo già fatto in cui ho semplicemente creato una classe che mi sono chiamato carciconverter DAO c'è il data access object l'oggetto per accedere al carciconverter io è vero che chiamare un web service sono solo tre dove l'ho messa sono solo tre righe tre istruzioni più un po' di gestione delle eccezioni però queste tre righe non le voglio vedere nel mio codice del controller così come non volevo vedere la query SQL che ha esattamente l'informazione su qual è il nome del web service io voglio essere in grado domani che trovo un servizio di valuta migliore che mi dà l'aggiornamento ogni due minuti anziché ogni due giorni di poterlo cambiare senza stravolgere l'applicazione quindi mi creo il mio DAO che mi espone le informazioni come piacciono a me a me applicazione web e poi ci penseranno i metodi di questo DAO ad adattarsi all'interfaccia offerta da web service quindi in questo caso io ho creato un metodo più semplice che ho chiamato get conversion rate mi piace di più perché ha il get davanti io ho cambiato nome cioè a questo punto sto progettando un DAO un oggetto per accedere ai dati che in un certo senso prescinde dai dettagli del servizio web effettivo è chiaro che i dati che si sono scambiati sono quelli però lo posso rimappare ad esempio questo get conversion rate riceve due stringhe e quindi l'oggetto currency che era definito là in quel package non lo uso perché è un oggetto specifico di quel web service che ha definito la currency in quel modo lì io non voglio andare a iniettarmi una dipendenza nella mia applicazione da quel package sviluppato da quegli sviluppatori di quel web service che hanno definito un oggetto currency se voglio un oggetto currency me lo faccio io mio non uso il loro perché se no un domani non sarò mai in grado di cambiare il fornitore di web service perché metà della mia applicazione dipende da come loro hanno definito il tipo di dato currency e quindi sto cercando di disaccoppiarmi il più possibile di disaccoppiare chi usa i web service all'interno della mia applicazione web rispetto alla chiamata stessa ad esempio dimenticandomi dei tipi di dato in questo caso ma perché è semplice perché oppure rimappandoli su altri tipi di dato miei interni della mia applicazione web quindi ho questo metodo del DAO get conversion rate a livello di applicazione web io uso in questo caso non ho fatto model new controller perché è una cosa molto semplice ma come gira l'applicazione questo è il codice index.jsp c'è una pagina sola in questo di prova di questa applicazione new currency converter DAO e poi questo currency converter DAO gli chiamo il metodo get conversion rate gli passo due stringhe sarà mia cura far sì che queste stringhe siano quelle valide per fare una cosa fatta bene dovrei prendere quell'elenco metterlo in un database fare una query insomma per ottenere i dati ma questa è solamente una pagina di prova che mi istituisce un double se io guardo questo codice queste due righe di codice questo è il codice che ci sarà in un controller della mia applicazione web non lo so se queste tassi di conversione le ho memorizzate in un database o lo sto richiamando da un web service non c'è nulla che me lo può far capire è quello che voglio il DAO ovviamente è implementato in modo diverso se legge il database o se legge un web service nel caso in cui lega la web service in nostro caso lui prende le due stringhe from currency to currency e le deve convertire in oggetti currency perché quel metodo richiede oggetti currency allora andando a vedere l'oggetto currency vedo che loro hanno costruito loro axis mi ha costruito in automatico un metodo from string che prende la string e restituisce l'oggetto currency fatto in quel modo questo lo scoperto andando a esaminare il codice quegli oggetti lì sono stati creati il codice una volta che c'è lo posso andare a leggere studiare e modificare eventualmente e quindi mi creo from currency to currency from c e to c convertendo da stringa a oggetto currency e poi ho le tre famose righe di chiamate del web service prendo il locator locator get currency converter sop mi da il converter mi da il web service effettivo e poi lo chiamo chiamo convention rate passandogli i due oggetti restituisce un double e questo double io lo ritorno sotto di mezzo ci sono una remote exception che può lanciare la conversion rate perché questo chiamata metodo è una chiamata in realtà remota quindi mi può dare un'eccezione remote exception che va è una categoria di eccezioni che raccolgono tutte le cose brutte che possono capitare quando chiamo un metodo remoto non mi risponde mi risponde sbagliato non risponde in tempo eccetera eccetera non sono riuscito a trovarlo e invece questa service exception è un'eccezione che può essere sparata da questo get currency converter sop che è un'eccezione legata al essere in grado di trovare o no il servizio questo non dovrebbe mai scattare perché se ho creato le classi bene il locator me lo darà quel servizio perché ci sarà però formalmente c'è quindi questo è il codice di chiamata se io faccio partire questa applicazione mi aspetto di vedere una pagina in cui compare il tasso di conversione tra euro e corone svedese in questo caso allora vediamo se è vero non c'è nulla in questa applicazione che sappia che cos'è una corona svedese o che conosca il cambio e però tutti sapevamo che il cambio dall'euro alla corona sono di 9.2 a 1 ok ogni volta che io rinfresco questa pagina guarda che ha cambiato lo stanno inventando o lo stanno cambiando in tempo reale ogni volta che rinfresco questa pagina non me ne accorgo ma in realtà da questo pc sta partendo una chiamata remota con tutto l'xml di contorno a web service e sto spacchettando l'xml di risposta e vabbè sarebbe curioso capire questi signori qui da dove lo prendono questo dato se ce lo dicessero in alcuni casi lo dicono quindi questo è un esempio molto semplice per arrivare adesso io poi vi metterò a disposizione questo codice così lo potete guardare domani invece faremo due esercitazioni di cui anche questo oggi pomeriggio vi pubblico il testo così se volete potete guardarlo la prima esercitazione la prima ora e mezza lavoriamo ancora sul sito ricordate l'altra volta vi avevo chiesto fate la parte di login adesso per domani aggiungiamo qualcosina aggiungiamo nella parte di login quando l'utente si è collegato mostriamo benvenuto il nome dell'utente e scriviamo la città in cui l'utente si trova la città la dovremo aggiungere al database e la città corrispondente alla sede dell'azienda rispetto alla quale quell'utente è registrato e questo di nuovo un lavoro di diciamo così database e di applicazione web normale ma nella seconda ora faremo un passo successivo è quello di mettere vicino a quel nome di città ad esempio la temperatura che c'è in quella città in quel momento visto che parliamo di energia allora fa vedere guarda che tu sei in quella sede sei loggato in quella sede in questo momento la temperatura esterna la temperatura ambientale è di 15 gradi 18 gradi quanti saranno questa temperatura ovviamente la dobbiamo andare a pescare da un web service in questo stesso sito da cui abbiamo pescato il car si converso c'è anche un servizio che ci dà la temperatura quindi se volete potete cominciare a giocarci cominciare a pensarci a domani